Ah, so tornato! E so ancora più cattivo! E sai una cosa? Stavolta un libro l'ho letto! E i capitoli erano scritti tutti con le lignette! Il decimo si chiamava X! E quindi adesso noi siamo in season X! Capito? X! La X è 10 al numero romano! Ma che stai a dire? La X non è un numero, è una lettera! Sì, ma nei numeri romani simboleggia il 10! Ma io non so mica da Roma! Siamo nella season X! Capito? X! Ma è la stessa cosa, solo che il numero è stilizzato! Chi è che fa un stilista? Ma io intendevo... La season X! Vabbè, ma che hanno aggiunto in sta season?